Buongiorno a tutti, come state? Spero che tutti stiano bene. In questa parte facciamo un ripasso sulla lezione precedente. Vi chiedo gentilmente di rileggere il grossario prima di cominciare a fare questo esercizio. E voi dovete imparare a memoria le nuove parole. Adesso vi faccio un riassunto per la lezione precedente. Abbiamo imparato cosa significa la parola costume. Questa parola significa lo stile di un individuo o di un gruppo che riflette la classe sociale. Questo è il significato della parola costume. Così noi possiamo conoscere a quale classe sociale appartiene una persona dai suoi vestiti. Noi abbiamo diversi fattori. Noi abbiamo tanti fattori che infiluiscono sull'abbigliamento. Ma quali sono questi fattori? Noi abbiamo quattro fattori. La religione, la politica, l'economia e il clima. Questi sono i fattori che infiluiscono sull'abbigliamento. Cioè che hanno una grande influenza sull'abbigliamento. Però l'abbigliamento è lo specchio della società in cui viviamo. Cioè gli abbigliamenti del passato non sono simili agli abbigliamenti dell'età moderna. Quando il tempo passa, la moda cambia. Così l'abbigliamento è lo specchio della società in cui viviamo. E alla fine abbiamo imparato che i faraoni hanno preferito utilizzare il cotone e il lino. Ricordate che il cotone e il lino sono fibre naturali. Però i faraoni non hanno preferito utilizzare la lana perché hanno considerato la lana come una fibra imbura. E il clima caldo in Egitto favorisce l'uso dei indumenti leggeri. Cioè i faraoni hanno preferito utilizzare indumenti leggeri perché il clima in Egitto era caldo. In questa lezione continuiamo ad studiare gli abbigliamenti dei faraoni. Quindi vi chiedi di leggere il glossario prima di cominciare. L'abbiamo a leggere il glossario davvero abbigliamenti del passato prima di poter capire il passato al passato. L'eschiabbi. Cioè l'eschiabbi. L'eschiabbi che sono gli abbigliamenti. L'eschiabbi è la forma di nudi dell'abbigliamenti del passato. Oltre che avevano lavorare in un passato, oltre che avevano lavorare in un passato in un passato in un passato in un passato in un passato. L'eschiabbi. L'eschiabbi. L'abbora nonudi. L'abbigliamenti che avevano lavorare in un passato 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 in un passato. L'abbiamo a leggere il passato in un 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 passato. L'escoonde. Lino. Lino. Lieno. L'eschiabbi. Library으로 coprire il descato in un passato. Il pianto girano con un passato in un passato in un passato in un passato. E poi abbiamo la proposta all'ischiabbi con l'eschiabbi. Autore che si tratta Ollieor Richmondi in un passato 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 in un passato. questo abbigliamento cobre i fianchi e giunge fino alle ginocchia la donna egizia cosa preferisce portare la donna egizia? il mor al-mossorio al-kodimma che ne è fatta la moda della donna egizia è semplice la moda della donna egizia del mor al-mossorio al-kodimma è semplice che è una basita in cui abbiamo inizia la moda della donna egizia è semplice la moda è semplice la moda è semplice in quanto la porta è semplice che si chiama che si chiama calaciris la moda è semplice 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 è semplice la moda è semplice che è semplice la moda è semplice la moda è semplice è semplice la moda è semplice è semplice la moda 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 è semplice vollettare la moda è semplice ci sono le pot Agli la moda è semplice l'aristocratica indossa abiti pieni di ornamenti l'hova il dina